Ciao bellezze, eccomi con un nuovo video. Benvenuti sul mio canale Veritas Genesis at Genesis Nirvana 2023. Mi raccomando seguitemi anche su Instagram perché in questo periodo abbiamo parlato di tante cose interessanti. Seguitemi a Genesis Nirvana 7. Questo video è un po' diverso perché come vedete non mostro il mio volto ma vi mostro direttamente le immagini, le scritture. Voglio partire dalla lettera ai Galati. Lettera ai Galati capitolo 1 versetto 8. Orbene se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato sia anatema oppure nuova riveduta. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato sia anatema, ossia maledetto. Più o meno la traduzione è questa. Allora questa cosa mi ha fatto pensare molto perché chi è che annuncia al profeta Mohammed la sua rivelazione, la rivelazione dell'Islam, quello che sarà poi scritto nel Corano, è l'angelo Gibrili o Gabriele per noi. Vediamo. La prima rivelazione di Mohammed è un evento descritto nella tradizione islamica come avvenuto nel 610 d.C. durante il quale il profeta islamico Mohammed fu visitato dall'angelo Gibril o Gabriel, Gabriele, che ha rivelato a lui gli inizi di quello che poi diventerà il Quran scritto appunto da Mohammed. Questo evento è avvenuto in una caverna, c'è anche questo aspetto della caverna che mi ha incuriosito, che mi fa pensare al culto di Mitra. Anche forse la storia che Gesù è nato in una caverna, Gesù non è nato in una caverna, è nato in una stalla, ok, a Bethlehem. Comunque non divaghiamo, no? Questo evento è avvenuto in una caverna, took place in a cave called Hira, la caverna di Hira, che si trova in una montagna, nella montagna di Jabal Anur, vicino alla Mecca. Ok, e continuiamo. Le persone hanno chiesto anche che cosa ha detto l'angelo Gabriele a Mohammed? Gli ha detto, oh Mohammed sei il messaggero di Dio, io sono l'angelo Gabriele. Questa rivelazione presto è stata seguita da altre circa la verità sull'unico Dio, ok? E eventualmente l'angelo ha detto a Mohammed di iniziare a proclamare questo messaggio di Dio. Andiamo avanti. Che cosa ha detto l'angelo quando Mohammed stava pregando? Sempre nell'anno 610, mentre Mohammed meditava in una caverna sul monte Hira, l'angelo Gabriele è apparso e gli ha parlato e l'angelo ha detto la parola Allah. E così Mohammed ha iniziato a ricevere la rivelazione diretta da Dio attraverso questo angelo. Mi ha molto incuriosito, questo è il numero greco 666 che troviamo nella Bibbia e quello accanto è il nome di Allah nel Quran, ok? Eccolo qua. Il nome di Allah. Qua c'è una rappresentazione grafica appunto dell'angelo Jibril che parla a Mohammed. Ok? Andiamo avanti. Chi è questo Mohammed? E chi è questo Allah? E qua comincia ad essere importante la questione. Ricordatevi la lettera ai Galati, ok? Allah è il dio arabo della luna, the moon god, è anche il motivo per cui c'è sempre rappresentata la luna e la stella, ad esempio nella bandiera turca o come rappresentazione dell'Islam in sé. Ok? È anche conosciuto con il nome di Baal, Hubal e Molech. I musulmani negheranno questa cosa una volta che viene mostrata a loro, ok? Ma il dio in cui Mohammed è nato, il dio della sua tribù, era questo, Baal, Hubal e Molech. E children were sacrificed to this demon idol. Bambini venivano sacrificati a questo demone idolo. E questo è il motivo per cui l'idolo ha questa posa, vedete, delle mani stese, le mani distese, si pone proprio un figlio sopra ad essi. E nel Vecchio Testamento Dio lo ripete tantissime volte, coloro che hanno sacrificato i figli a Baal, ok? È ripetuto molte volte nell'Antico Testamento. Quindi una donna chiese a Mohammed appunto di questa cosa del perché far morire i bambini e come Mohammed e Allah guardavano alla cosa. E il profeta ha risposto, una donna che ha tre figli e i tre figli muoiono, quella donna sarà protetta, schermata dalle fiamme dell'inferno. E quella donna chiese, e se solo due figli muoiono? Allora lui rispose, anche due la proteggeranno dal fuoco dell'inferno. E così sapete anche perché le madri musulmane sono, diciamo, disposte a sacrificare i propri figli ad Allah o che i loro figli muoiono, in qualche modo solitamente cruento, per Allah. Ok? È questo un po' il culto dell'Islam. Ok? Ora voglio farvi sentire un video di un minuto e trenta. Io ve lo tradurrò man mano, è in inglese. Ok, Mohammed sposa, tra le altre mogli, Aisha, ok? Quando aveva nove anni, ma molte fonti dicono sei anni, oppure alcune fonti dicono che è stata sposata a sei anni, ma il matrimonio è stato consumato a nove anni, quando lei aveva nove anni. Quindi, Aisha viene guardata come la madre dei credenti per i musulmani, con lei che ha diffuso il Corano dopo la morte del profeta. Ok? E questo è uno degli aspetti che volevo evidenziarvi dell'Islam. Poi ce ne sono anche altri, ma ora mi concentro su questi. Quindi lei aveva all'incirca nove anni, comunque quando il matrimonio è stato consumato, e lui cinquantaquattro. Quindi dice, e va bene per te che un uomo di cinquantaquattro anni, che potrebbe essere suo nonno, sposa una bambina di nove? E la persona risponde sì, perché lo ha ordinato Allah. Allah è tutto per avere minorsi, pre-pubensi, pre-mature minors, marroni uomini che sono più vecchi per essere il loro grande padre, e Allah è ok con questo? Ma io pensavo che Allah è il più vero dei anni, e dove è il più vero? Dice, se Allah è detto the most merciful, quindi il più misericordioso, dov'è la misericordia nel dare sposa una bambina, quindi traumatizzarla per la vita, ad un uomo molto più grande? Se Allah ha ordinato, dov'è il più vero di questo? O dov'è il più vero di Satana, o dov'è il più vero di Dio? Dov'è il più vero di Dio, o dov'è il più vero di un figlio, o dov'è il più vero di Satana? Tu credi che sia Satana che si traveste da Dio e ordina una cosa del genere, o credi davvero che Dio possa ordinare una cosa del genere? Ok, dice, sicuramente qua c'è un inganno, e qui si riferisce a un inganno satanico, perché? Perché Gesù, in Matteo 18, dice, il regno di Dio appartiene a questi bambini, agli innocenti. E devi essere, dovete diventare come questi bambini, innocenti per poter entrare nel regno di Dio. Infatti Gesù dice, a chi causerà scandalo o farà cadere questi miei innocenti, sarebbe meglio per lui che si legasse una pietra al collo e si buttasse nel mare, piuttosto che causare la perdita dell'innocenza a uno di questi miei piccoli. Quindi Dio ama più di ogni altra cosa i bambini, i bambini e gli innocenti. E quindi arrivati a questo punto dice, secondo te che cosa farà Dio? a questa persona che ha causato scusate, mi sono persa. Che cosa farà Dio a questa persona che ha causato dolore a questi innocenti? E' scritto, ci sarà più misericordia praticamente per chi commette un suicidio piuttosto che per chi arrecca scandalo a queste bambine. e voi sapete sicuramente il problema non indifferente delle spose bambine, bride girls, proprio ad esempio di Aisha e Muhammad, ogni musulmano ad esempio del suo profeta può prendere in sposa una bambina, le cosiddette spose bambine. E qua c'è un articolo specifico sulla Gran Bretagna che vede record su record di queste spose bambine che vengono completamente ignorate dalla legge, nessuno le protegge, nessuno le difende, per vari cavilli. Al tempo Teresa May disse se queste bambine vengono portate o prese dal paese di provenienza del marito, dell'uomo, e poi portate legalmente come spose, come mogli, si congiungono al marito nel UK, nel United Kingdom, la legge non può fargli niente. Ok? Quindi c'è un loophole, quindi un buco giuridico per cui nessuno può intervenire su questo abuso di minori. Ok? E dopo sta al marito decidere la vita che faranno queste baby spose, ok? Baby brides. E si afferma che si può avere un contratto matrimoniale anche con una bambina di un anno. Ok? L'articolo si intitola Not so Great Britain. Quindi Great Britain, Andiamo avanti con le notizie che ho trovato. Vedi, ci sono vari siti. Girls not brides, quindi bambine e non spose. Il matrimonio delle bambine si verifica anche all'interno del UK. Perché? Perché? Vedi, c'è una stima, vedete, c'è una stima tra le 5.000 e le 8.000 bambine sono a rischio di essere forzate nel matrimonio ogni anno in Inghilterra. Ok? Fino a bambine di 5 anni. e ci sono prove che queste bambine sono prese, portate fuori dall'Inghilterra, sposate, oppure che le stesse famiglie musulmane di magari, chissà, seconda, terza generazione, sposano queste figlie all'interno delle loro comunità in cerimonie religiose che non vengono registrate. Ok? Nella civilissima Inghilterra. Ok? Ecco la dichiarazione di Teresa May che dice se una bambina viene sposata legalmente nel suo paese di nascita allora il suo marito non può essere accusato di niente sotto la legge inglese, la legge della Gran Bretagna. Ok? Ma, come abbiamo visto, questi matrimoni si registrano a numeri di migliaia anche all'interno della Gran Bretagna illegalmente all'interno di queste piccole comunità. ok? Quindi volevo lasciarvi con questo pensiero oggi in difesa di questi bambini. Ecco, Aisha detta la madre dei credenti, la sposa bambina. La terza e più giovane moglie del profeta chiamata anche la madre dei credenti. quindi ragioniamo su che cos'è questo Islam su cui non si può alzare un dito è una parola io infatti mi aspetto un backlash molto forte da questo video ma non mi importa ok? Non mi importa. E l'islamizzazione che sta avvenendo dell'Europa Gran Bretagna compresa essendo una delle prime nazioni che ha perso diciamo la il titolo di nazione cristiana non è più una nazione cristiana e piano piano questo è ciò che intendono fare in tutta l'Europa anche attraverso la i flussi migratori infiniti questo l'ho già detto più di una volta ok? che sono stati voluti da Soros e da altri per islamizzare l'Europa intera sradicare qualsiasi radice cristiana dall'Europa io vi auguro una buona domenica state sereni ok? perché il vero Dio ha tutto sotto controllo io vi abbraccio ci sentiamo prestissimo baci da Nirvana